Il serpentone che collega Rovereto al casello nord dell'autostrada del Brennero verrà ripristinato nella piena viabilità subito dopo Pasqua, ora è percorribile a velocità ridotta. Intorno alle 14 di oggi infatti un giunto di dilatazione posto fra i manufatti di calcestruzzo, il sistema spiega l'ufficio viabilità del comune che funge da ammortizzatore fra le varie sezioni, era uscito dalla sede lasciando scoperto un tratto di circa 60 cm. Il foro è stato momentaneamente coperto con una piastra ancorata alla struttura esistente e quindi la circolazione è stata ripristinata.